L'intenzione, l'interesse, la ferrea volontà è proprio quella di evitare che questo possa essere il primo di altri episodi. E dopo l'ultima violenta rapina con tanto di sequestro che cresce la paura nel mondo orafo a retino è da così tornato a riunirsi il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il colpo da un milione di euro in diamanti risale ad una settimana fa nel mirino di un commando di banditi prima la villa del titolare della Diamond import, poi la stessa azienda per entrare nella quale i malviventi avevano preso in ostaggio la nuora del proprietario. Le indagini adesso proseguono a 360 gradi ma intanto il Comitato Provinciale presieduto dal prefetto di Arezzo è tornato a riunirsi alla presenza dei vertici provinciali delle forze dell'Ordine e i rappresentanti delle associazioni di categoria del settore orafo. E' stata richiesta una grande collaborazione alle associazioni orafe affinché sensibilizzino i loro associati nel mettere a punto tutte quelle misure di sicurezza passiva che sono indispensabili. Quindi parliamo di telecamere, parliamo però anche di temporizzazione. Saranno poi intensificati i controlli da parte delle forze dell'Ordine e riviste le misure prese dal Comune di Arezzo per far fronte al caro energia. Dico che prevedeva l'illuminazione parziale del territorio. Il Comitato su questo si è espresso in maniera veramente unanime sulla necessità che invece tutte le zone cittadine siano perfettamente illuminate perché è il primo deterrente. E' stata infine ribadita la necessità di implementare l'efficienza delle telecamere di videosorveglianza. Quindi è indispensabile che tutte le telecamere siano in perfetta efficienza perché sono uno strumento imprescindibile per le indagini e uno strumento di grandissima importanza come prevenzione.